È un'estate di riflessione e ripensamenti, un'estate pacata a bocce ferme. Ridimensionate le feste, che occupavano Prato Fiera per 4 o 5 giorni, archiviato l'appuntamento sempre più chiassoso e un po' folcloristico di Riva degli Schiavoni, si decide di ripartire dalla base. Si partirà entro agosto con delle riunioni di sezione, dove i militanti avranno la possibilità di esplodere le loro idee, di dare i propri suggerimenti, di dare degli indirizzi che noi porteremo poi in direttivo di circoscrizione. Proposte e idee delle singole circoscrizioni verranno sottoposte alla segreteria di ogni provincia e quindi alla segreteria regionale nazionale. Ne uscirà un testo unico per il Veneto. Per concludere, questa è stata calda ma piena di nuovi e buoni propositi verso l'Assemblea federale che si tirerà a Lido di Venezia il 21 e il 22 settembre. Sarà una due giorni di lavoro con un'Assemblea che riunirà tutta la Lega Nord. Insomma, non c'è tempo per le feste e i comizi di Riva degli Schiavoni. Un nuovo modo di fare, un nuovo modo per soprattutto coinvolgere i militanti, portare maggiore democrazia e soprattutto una nuova linfa, una nuova voglia del fare. Anche Prato Fiera ospiterà una festa dai toni minori. Sarà la prima del dopo Gobbo Gentilini. Sarà una festa ridotta se riusciremo a realizzarla, ma credo che l'imperativo e l'impegno è proprio quello di dare una continuità. Un'estate dunque tiepida di analisi e ascolto per essere pronti al prossimo grande appuntamento elettorale del 2014 con il già citato caposaldo, la base. Oltre il 90% ha sottoscritto la condivisione, per cui ha rinnovato la tessera militante della Lega Nord e per quanto riguarda i simpatizzanti abbiamo una nutrita di persone che ancora ci seguono. E ai dissidenti un unico chiaro invito. L'augurio è che prendano la loro valigetta e escano dal partito.